Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 5 km di coda per un veicolo fermo ora rimosso al km 267 tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 a Pisa Nord chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e la 12. In Fipilin direzione Mare rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco. Spostandoci sul raccordo Siena-Firenze rallentamenti per lavori tra San Casciano in Val di Pesa e Firenze in Pruneta e tra Monte, Rigioni e Badesse in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!